Andrea Farolfi per Mauro Baroncini, 10 extra time AS, Vincenzo Longo per Luigi Sidi, 11 Smeralda e Sem, Gianpaolo Minucci per Domenico Minopoli. Di Galoppo e Vacant Joe. Lottano per il comando del Kibraun F del Wiseman che supera l'avversaria. La terza posizione è per Elixia. Quindi rimane all'esterno il numero 7 di Eletta Star che però può trovare posto in corda per l'errore di Esperia Font che era al suo interno. Quinta posizione per Extra Time AS davanti a Emma De Veltri alla retroguardia Smeralda SM che è l'unica che si porta all'esterno. Gradua e del Wiseman nei confronti di Enki Brown F. Elixia, Eletta Star e Smeralda SM in graduare risalita esterna. A chiudere ci sono Extra Time AS e Emma De Veltri. Situazione tattica che non muta con la del Wiseman che può graduare a piacimento tanto da aggiungere al paletto di metà gara in un minuto e un decimo. Sul piede dell'1.15 appena abbondante seguita da Enki Brown F. Elixia, Eletta Star e Smeralda SM all'esterno che viene controllata a mezza ruota da Elixia. Il chilometro in 1.14.4. 14.3 quindi per l'ultima frazione del Wiseman che viene ora impegnata da Enki Brown F che costringe in terza ruota Emma De Veltri che è scattata all'esterno di Elixia. Sono in tre sud di una linea con del Wiseman, Enki Brown F, Emma De Veltri davanti alla paliglia composta da Eletta Star ed Elixia. Entrando in retta c'è Emma De Veltri che attacca a fondo Enki Brown F. Le due in leggero vantaggio Emma De Veltri che passa su Enki Brown F. Poi Elixia quindi Eletta Star. C'è anche la scarierante Speria Fonte che crea un po' di intralcio ma Emma De Veltri è in vantaggio nei confronti di Enki Brown F ed Elixia. Vince Emma De Veltri su Elixia ed Enki Brown F. 9-1-3 l'arrivo ufficioso della quinta di Capannella e la consolazione delle Ox.